Scusate se prendo il microfono, perdonate la mia R Moscia, o la R Moscia, o la R Moscia. Dopo tanta gente del meridione che è intervenuta qua sul palco, vorrei salvaguardare i nostri valori di gente del nord. Quindi presenterò il prossimo pezzo, in lingua originale di questa regione, Murasei e raggendo al Piemonte! Quanti sono piemontesi qua dentro? Tarum! Napoli! Allora, prossimo talk, che sono l'Uma, all'entocca del Frenzappa. Avete capito? All'entocca parla da motociclista, cos'è il motociclista in italiano? Bavi, motociclista. Il motociclista a cui ha portato via le cose più importanti, la birra, che è? La birra. La birra. E le pupe, che sono? Le tette. Chi è lei che la portare via le tette e la birra? Al diavolo. Il diavolo. Al motociclista sarà un personale stasera. Sì. Andrà capa non al civuletto. dal leader degli assiduri, Mr. Martin Bellavia. che anche se è un uomo del sud, ha tutto il mio rispetto. Al diavolo sarà interpretato dal fenomeno, dai gesti duri, fenomeno da baracù. E qui siamo in un baracù, meglio di così, Mr. Alex Aburskio. La canzone è in questione, che vuol dire la canzone è in questione, la canzone è in questione, fa riva, come in italiano. La staschama, più ben birra, no? Ah, in inglese, titiz and beer, in italiano, birra e tette, o tette e birra, è interscambiare. E proprio a proposito di tette, volevo far salire sul palco la mia... Cazze! Vigliocco, pinta, alla voce narrante piemontese, e alle tette, la mia ragazza bellissima, Cristina! Era una notte buia senza la luna in cielo, ero in meno stelle, era tutto nero. Il vento, che fischiava tra alberi e mestrali, e c'era un lupo mannaro, proprio giù di là! Sono un osso duro, e con una bambina, una ragazza lettona, che si chiama Cristina! Quella sera, sulla moto, c'era l'alberto, sui G-Malmusine, erano ormai le stelle, ormai le stelle! Sai che, anche i grilli cantavano più in fretta, sai che, fosse ora di farsi un po' di birra regge, e ti dissi, passami un po' di quel che stai vedendo tu, ma non ci fu la risposta, perché lei non c'era più! Dove sono quelle tette che mi piacciono tanto, e la mia fortuna birra io gettai nel vento, ci fu un gran casino, e come fosse un figlio, si slacciò da parte il diavolo, era alto così! Con un vestito rosso ed il cappello a punta, anche la coda a punta, e un grande odore di zolfo, che fosse proprio lui, non c'era dubbio al culo, aveva carne umana ancora sotto le unghiette, mi sembrava che fosse pelle di tette, gli dissi, brutto bastardo! Lo guardai proprio male, lui si fulviva le zatte, col filo e il dentale, tirai fuori la pistola, e feci, bam bam bam! Lo stronzo rise, e disse, piantala dai! Mi son mangiato tutto, e adesso cosa farai? Hai mangiato la mia Cristina? Sì, te te e tutto quanto! E la mia lattina di birra regge? Era questa qui? Bravo, anche i suoi stivali? E potrei mai mentire a te? E allora cazzo, avevi proprio fame, allora? E beh, sai com'è? Ma non ti pagano bene per il lavoro che fai? Guarda, mi busta paga e dopo capirai! Vabbè, diavolo, io rivoglio la mia Cristina e la mia reggente, quindi me la risputti fuori adesso tutti e due, hai capito? Ehi, motociclista, puoi andare a cagare! Io sono il diavolo, cerca di imparare! Per le tette e la birra, tu che cosa mi dai? Guarda questo contratto, se lo firmi lì avrai! Hai proprio ragione, figlio di una zoccola, questo è l'unico motivo per cui sto stato a scuola! Scommentici il culo che lo voglio firmare, perché ora di birra e tette da strizzare! Ma non mi prendere in giro, tu non sei così tremendo! Dai un'occhiata alle anime, che io di solito mi prendo! Ci sono Moji, Giraudo e tutti quanti loro, e tutti quanti loro appunto sono peggio di te! Facciamo sto accordo, se proprio ti va! Tu sei il diavolo, e allora dimmi, come si fa per entrare all'inferno? Tu mi stai proprio sul cazzo comunque, non ti faccio entrare di priori, però per entrare all'inferno ci vogliono le palle, e tu le palle non ce l'hai, non è che se sei vestito di pelle c'hai le palle! Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Secondo voi due piglie contano come palle? No! No! Contano! Andrea, contano! Allora cosa posso fare per entrare all'inferno? Diavolo, dimmi un po' te! Devi avere le palle, devi aver fatto qualcosa di male, qualcosa di sbagliato, devi aver compiuto le relazioni cattive, devi essere stato cattivo, devi essere stato un bastardo, devi avere le palle grosse, grandi, cattive! Ah, ok, ho capito! Ha capito, ma guarda diavolo, io qualche anno fa sono andato su in cima alla chiesetta e ci ho pisciato dentro! Nella chiesetta? Nella chiesetta che c'è qua sopra! Mario Isigliatrice? Esatto! Hai pisciato nella chiesetta? Esatto! Quanto tempo fa? Due anni fa! C'era anch'io! Mi ricorda benissimo quella volta, bravo! C'era anche di sé! C'era anche di sé! È stato divertentissimo! Non va bene? C'era Piombino! Quindi posso entrare? No, perché c'era anch'io! Se l'ho fatto io non vale! Se sei col diavolo, fa le pentole ma non i coperchi! Ah sì sì sì! Capito? Non mi ha neanche ascoltato! Un anno fa invece, qui in piazza Givoletto, ho dato fuoco a un bidone dell'immondizia! Qua in piazza Givoletto? Esatto! Ma dietro il capannone? Esatto! Dove c'è la banca? Esatto! C'era anch'io! Non fa! Mi ricordo il fuoco, le fiamme, il mio mondo! Sono io! Allora guarda! Non va bene comunque! Guarda, guarda, guarda! Deve aver fatto qualcosa di cattivo! Ho capito, guarda, guarda! Io martedì, c'è stata la partita Germania-Italia? Germania-Italia l'ho vista, bella! Ho stifato per la Germania! Deutschland, Deutschland, Libera, Deutschland! Va bene? Ascolta, ma tutti i tedeschi che c'ho lì all'inferno, se tu scendi e sei proprio un parzotto italiano di merda! Che cazzo viene a fare all'inferno? Devo dire la verità che in effetti ti ho preso in giro, diavolo! Io sono italiano e ho tifato Italia pure io, anch'io ho gridato Forza Italia come tutti! Eh, ma va bene, ho gridato anch'io Forza Italia! C'è, c'era la partita, ho detto Forza Italia! Sì, va bene, però tutti quelli di Forza Italia che riuo all'inferno, cioè non è che posso farli entrare tutti! È vero che hanno perso, ma ce n'è ancora tanti! Non posso farli entrare tutti! Se non ti va bene niente, basta! Facciamo sto contratto e non ne parliamo più! Non puoi fare un contratto senza che le controparti siano d'accordo, cioè un contratto è un termine scritto fra due parti e non possono essere... No! Non firmare! Famici pensare! Ma questo è inchiostro magico! Tu mi vuoi fregare! E allora lui spurtò la mia ragazza lì e con le tette traballanti e scendesse così... Ho bevuto due pizze e un taglio di negroni ora mi sono rotta verso via dei caglioni! Poi ci mandò fa culo col dito medio alzato il diavolo correggio nei fini in mezzo a un prato il diavolo era pazzo io mi levai dal cazzo ancora non ci sa come sei uscita di là Acora non ti sa come sei uscita di là ancora non ti sa come sei uscita di là ancora non ti sa come sei uscita di là Grazie a tutti